Una vacanza se non è movimentata non è vacanza per voi. Coraggio è il vostro secondo nome, ma badate bene a non abusarne. Trekking, sci, snowboard, fuori pista, il luogo perfetto per le vostre imprese impavide e la montagna. Scegliete bene un posto tra le Alpi, Trentino, Piemonte, Valle d'Aosta, una caso oppure alternate. Queste regioni sapranno regalarvi momenti ricchi di adrenalina, proprio come piace a voi. Grazie a tutti.